Cosa ne pensa di questo evento ormai atteso da tutti nella Calabria? Passerà dopo 31 anni da Soveria Mannelli per poi raggiungere Camigliatello nell'area del Reventino, del Savuto. Una bellissima opportunità, un bellissimo evento per l'intera Calabria ci sarà tantissima partecipazione, c'è già tanta aspettativa fin da oggi, quindi un evento da capitalizzare al massimo per il nostro territorio perché sarà una vetrina mondiale, internazionale che consentirà a tutti di far apprezzare le nostre bellezze, tutti i nostri territori. Grazie a tutti!